musica 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 ci stanno 50 hamburger di cui 20 sono leggermente modificati leggermente testa di inglor e nasi un po' attenzion è never been and k � companies No, ma sono belle incazzate o però più di una raga Sì, ehi! Aspetta, aspetta, tutti insieme Cin cin, cin cin, non lo so come so, vediamo Parola dei bingo Fai Dio, appizzita appizzita E' mia non lo sfagano Oh, ma che sto sfaginare Oh, oh Guarda è passato a dire pizze che non mi è E' mia roba, è scaduto Ma che è scaduto? Sono i zetti, io mi sono legato Sono i zetti, io mi sono legato Oh Aspetta Si senti i vecchi di dita Ma questo cazzo Se te li metti in culo sai che fai con quei dita Io mi sono fermato le prime due Mi pizzicano le orecchie Sta a subì pure lui, incomincia a subì Vediamo se una banana Allora Allora, allora Mi pizzico la saliva Arriva anche a lui Ma tutte queste patatine noi le buttamo Oh, io me le mangio Che mangi? Tutta la bocca che non fai, non riesco a parlare Regà, sembra se siamo mangiati un cucchiaino di... E tabasco Magari a tabasco E prendi anche... Madonna! Ecco, ecco va bene Una patatina Una, una presa Una pietra Un sasso Ma brucia Come fai a dire che non fanno effetto? Come fai a dire che non fanno effetto? Come fai a dire che non funzionano? Mattia! Hello? E la Befana Ciao Mattia! No, non è vero! Non è vero! Non è vero! Non è vero! Queste ma no Proviamo Ciccin Ma non è la c meanlla Ma non era con me C'è una pizzi Pizzica piano piano 실�émati Si man sente rompe E per questo e pizzi Perché se rompe le mani Riouscia spaccate E vediamo come questo Ha dei succhiaino piano Allora Con drug Se è il Poor E' così Accumuli la saliva Accumula va a buttar giù è schifo ma schifo lì possiamo scudare? ci sta la jeans peak challenge jeans peak challenge non la conosci mi? eh lo so non la conosco però ma cosa hai fatto? se devo fare qualcosa di fatto c'è anche eh bravo ah si no 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 che fai così poco te? eh c'ho un zuppato ah ah è un po' livida ti riprende qualcosa da qua dai che scoccioliamo solo vabbè cin cin vaffanculo va dai prendi ne più è buona è buona però non è che si ma non è non è esagerata assaggiamo quelle dai che quelle dovrebbero essere leggere quelle dovrebbero essere leggere guarda me sono sporcato tutto dovrebbero essere leggere si me no sono forma di pene no è forma di peperoncino è forma di peperoncino vabbè piamone due guarda che carini piene due ma dici se non più che siano vabbè provamole non dovrebbero no no però per essere caramelli stai figlio della mignotta aspetta aspetta ti rimane ah regala queste caramelle so un po' fita una mignotta proprio buonissime eh ma pizzicano si pizzicano più di questa vedi però ah faccio il cazzo so buone queste caramelle so buone so buone so buone e gli pizzicano queste caramelle è una manciata una manciata eh sì una bella tu madre ma che sei ma no 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 sono troppi ma che cazzo te frega buon appetit alle ah no no non sai che si mette una botta no tutti insieme fanno fuori no no pizzicano santo oddio si oh mio dio acqua è un latte è un latte è un latte sotto la lingua no no sotto la lingua ah simon corri rimone corri e ora vai a prendere il latte pizzica ah 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 sto spendendo ragazzi come ero una lacrimuccia non sospendi ah 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 porca trovi alle orecchie latte 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 no c'è il moccolo cioè gli psycho scratching ghost people gli naga porc crackling così c'è scritto le faccio te guarda un po ma sai che cazzo è questo è il pollo questo è tipo maiale proprio è il maiale no no ma io pensavo che era uno dei croccantini questa è tipo maiale a buccia di maiale me sa qualcosa del genere tre due no regà un po' dai capire l'odore che c'è uno che c'è che cazzo è pure e pizzica avrebbe il pezzetto avrebbe il pezzetto ma che schifo no la pizzica pure e pizzica amicidia marannemi mai quanto le noccioline è interessante sembra interessante però esatto la cioccolata quello che vedete già nel rosso è peperonginos la cioccolata del tiafolo uno due infatti c'è il salio nella riola tre ho pizzica un culo regà occhio oh orecchie aspetta è buona è buonissima è buonissima mi capisci c'hai le lacrime però vaffanculo no perché mi sta ridendo è uguale c'hai le lacrime vabbè dai non c'è che si entrano tutte in bocca ci provo vai amore un po' di sforzo cerco cerco di prende il più possibile ma 109 davvero no no non so attenzione c'è un piccolo non so esagerati giulia aspetta attenzione sta soffrendo forse lei è sero lei è sero forse carmen eh ma giulia sta quasi per morire allora lei sta quasi sulla morte beh guarda sto allagrimando faccio vedere se vedi ti vedi ok ecco ma si ma abbiamo seta una su tre si una tutta si può significare che pizzichano vergugna se pizzino a lei ma lei poco ma lei poco niente non è giusto fatte vedere vai vicino della videocamera no no giulia sta piangendo giulia vai vicino alla videocamera gli occhietti lucidi ce l'ha proprio carmen eh si ma poi però non pizzino dietro dietro di meno di meno di meno eh ok io mi filo la per cazzo proprio ma vaffanculo e pezzi shop quello con dito nero marocchino quello marocchino mammo dai 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 guarda il sbrodolino guarda buonissimi buonissimi io non sento so più no viziano orecchie resisti 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 mi stavo a venire singhiozzo super ma io vado dunque si su non non